Te la ricordi quella volta che sei venuto a casa mia? A Borgo San Donato. Io mi ricordo dell'orto di tuo padre. Io sto diventoroso. E l'idea dei 20 minuti nel libro come ti è avvenuta? Osservando. Osservando e basta? Non è così. I primi 20 minuti in cui conosci qualcuno sono quelli in cui dici veramente chi sei. Dici tutta la verità su te, sul tuo passato. Tanto poi pensi, non è nulla da perdere, no? Poi i 20 minuti diventano 20 ore, 20 giorni, 20 settimane. 20 anni. E ti rendi conto che non ti sei mai più riparlato così. A me della gente non mi frega un cazzo! Io ho fatto una scelta di vita e non torno indietro. Piuttosto a fuoco, hai capito? Ma perché fai così? Perché vuoi gettare al vento la tua vita? Io vivo il tempo che devo vivere. E se devo morire va bene così. Sì, mi fai pena, mi fai... Non è nemmeno quello che vuoi questo. E che cosa ne sai tu di quello che voglio io? Dentro questa testa di merda tu sei rimasta una puttana, hai capito? Non ti accorgi nemmeno delle cose belle che ti capitano? Non ti accorgi nemmeno delle cose belle che ti capitano?